Allora, i migliori sono già qui, quindi cominciamo. Riprendiamo la sessione, il futuro dei contenuti digitali tra diritto e tecnologia, per favore cominciamo. In questa seconda parte abbiamo due presentazioni. La mia presentazione è l'informazione nel settore pubblico e la rete e una presentazione sul ruolo dell'autorità per le garanzie e le comunicazioni. La prima presentazione, i tre speaker sono già presenti, sono a partire dalla mia sinistra il dottor Giulio De Petra, regione Calabria, precedentemente direttore innovazione della regione Sardegna e prima ancora al CNIPA, che avrà come discassa il professor Marco Ricolfi. Il tema informazione nel settore pubblico è un tema di cui si comincia finalmente a parlare anche in Italia, e finalmente si comincia a capire che la pubblica amministrazione è anche una macchina che acquisisce, produce, organizza informazioni e che quindi bisogna avere un approccio complessivo al tema dell'informazione nel settore pubblico, dopo la direttiva europea del 2006 e dopo varie altre iniziative. Invece poi, nell'ultima presentazione di un quarto d'ora, l'ingegnere Fulvio Ananasso, direttore di questa nuova direzione dell'Agicom, ci parlerà appunto del ruolo dell'autorità. Passo la parola al dottor De Petra. Grazie. Parto dall'ultima cosa che ha detto Juan Carlos, cioè che, ed è una consapevolezza di senso comune, è che l'insieme delle amministrazioni pubbliche, cioè i ministeri, le regioni, i comuni, le province, ma anche gli enti pubblici, pensate all'Inps, pensate ad altri, nel loro insieme sono di gran lunga il più grande produttore e utilizzatore di contenuti digitali. Uso il termine contenuti digitali che è il tema della sessione moderata da Juan Carlos. La numerosità degli attori corrisponde anche alla numerosità dei settori tematici, cioè pensate a tutto quello che ha a che fare con i dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, sull'economia, sulla cultura, sulla formazione, sull'istruzione e così via. La cosa interessante e l'affermazione, secondo me, da qui partire, che fa porre questo tema oggi in un modo diverso, è che durante i processi di informatizzazione e di innovazione, che in misura solo parzialmente soddisfacente si sono sviluppati negli ultimi anni, anche solo, non come obiettivo, come effetto collaterale, tutto il patrimonio informativo del sistema delle pubbliche amministrazioni è oggi digitalizzato. Si potrebbe dire anche digitalizzato più volte, perché ci sono ridondanze, stratificazioni. È digitalizzato, ma è di difficile accessibilità e utilizzabilità, per due ordini di motivi. Il primo è di natura tecnologica. Formati diversi, in epoche diverse, in sistemi diversi. L'altro è di natura normativa. Allora, sugli aspetti tecnologici, anche qui c'è oggi un inizio di riflessione. Proprio ieri a Cosenza, all'Università della Calabria, c'è stato un incontro tra alcuni attori che sono stati protagonisti dello sviluppo dell'e-government negli ultimi 15-20 anni, che hanno cominciato a ragionare su, forse c'è necessità di un paradigma tecnologico nuovo allo sviluppo dell'innovazione della pubblica amministrazione. In grandissima sintesi, finora ci si è preoccupati faticosamente di innovare i processi dell'amministrazione pubblica. Ci si rende conto oggi che, anche qui in maniera molto rosa, il patrimonio informativo già digitalizzato è di fatto oggi il back-office dell'amministrazione pubblica. I nuovi paradigmi tecnologici possono essere tali da connettere direttamente con questo patrimonio informativo che sono gli utenti, che sono due utenti, sia quelli che lavorano nell'amministrazione pubblica, sia quelli che ne utilizzano i servizi. E poi vincoli di tipo normativo, che vanno dal livello delle norme contenute nel cosiddetto codice della pubblica amministrazione, ma anche nei regolamenti delle diverse amministrazioni, nelle pratiche, dove sono in gioco questioni, uso un termine usato la mattina, di potere. Sui dati anagrafici si stanno giocando questioni di potere tra diversi pezzi dell'amministrazione e di tipo economico legati alle velleità di valorizzazione economica di questi dati. Allora, come c'è necessità di un nuovo paradigma per le tecnologie, chiamiamoli del government, che consideri il patrimonio informativo pubblico come un bene comune, un patrimonio aperto, così c'è bisogno di un disboscamento normativo che elimini quelli che sono i vincoli normativi che impediscono e rendono difficoltoso l'accesso. È evidente che fare questa doppia operazione consentirebbe anche un nuovo paradigma di realizzazione dei servizi per l'amministrazione pubblica in cui la separazione tra i servizi fatti dall'amministrazione, i servizi fatti da altri che producono servizi a fronte di questo patrimonio informativo diventa molto labile. C'è una cosa molto interessante contenuta nella Open Declaration che è stata presentata a questo convegno di Malmo cui fa riferimento l'abstract dell'intervento che c'è stato a novembre del 2009, il 9 e il 10. La prima è rendere disponibile e accessibile questo enorme patrimonio informativo per generare anche nuova modalità di realizzazione dei servizi pubblici secondo il paradigma del 2.0, eccetera. Però questo è solo un pezzo. C'è un altro ruolo che l'amministrazione pubblica può giocare rispetto alle cose che sono state dette e sono l'oggetto di questo incontro ed è il fatto che, mentre prima abbiamo parlato di ciò che già è oggi il patrimonio informativo pubblico, l'amministrazione pubblica può avere in mente politiche mirate di accrescimento di questo patrimonio informativo. Cioè può consapevolmente e intenzionalmente dedicare risorse al trasferimento o alla creazione di contenuti digitali che oggi non sono pubblici nel dominio pubblico. Un esempio che è stata anche occasione di una collaborazione con il centro NEXA è tutto quello che alcune amministrazioni stanno facendo sul tema della cultura. Un'amministrazione pubblica può prendere quello che è la cultura del territorio che governa, che amministra la sua ricchezza che è fatta di storia, di arte, di testi, di film, di video, di fotografie e renderla disponibile come contenuto digitale libero. Naturalmente questo significa un gran lavoro per quello che sono le cose di cui ci hanno parlato gli avvocati prima. Quindi come trasformare qualcosa che è sotto il copyright 1.0 in copyright 2.0. Ed è un lavoro faticoso che richiede forse, che ha una complessità analoga a quella delle tecnologie informatiche, anzi forse superiore. Del resto, in ambito pubblico, esiste già una funzione, un formato che allude a questo ruolo e che è quello che è stato citato precedentemente, mi sembra proprio da Mariella Berra, che è la biblioteca. La biblioteca è una struttura pubblica che ha il compito di rendere disponibili a tutti delle cose che sono. E' chiaro che questo significa una modalità pratica per ampliare lo spazio del pubblico dominio. Se questo lo vediamo come anche, come è avvenuto in alcuni casi, collaborazione tra diverse amministrazioni, l'ambito può essere molto esteso, può riguardare un'intera regione, più regioni, in attesa che qualcuno se ne occupi a livello nazionale. L'ultima cosa che voglio dire è che proprio quest'ultimo esempio che ho fatto fa comprendere come l'accesso al patrimonio informativo pubblico non ha a che fare soltanto con le questioni di diritti, ma ha a che fare con la messa a disposizione di una risorsa fondamentale per tutto quello che è lo sviluppo economico delle imprese immateriali, che si basano in gran parte su questa materia prima. In questo periodo si fa un gran parlare di quali possono essere delle politiche pubbliche anticicliche, che contrastino e che diano... Bene, tra i costi, non vorrei tirare il solito ponte sullo stretto di Messina, ma pensiamo anche a cose più... E quale sarebbe il rapporto costi e benefici di una politica pubblica anticiclica esplicitamente mirata a rendere disponibile il patrimonio informativo pubblico in senso allargato, come abbiamo detto? E questo avrebbe non solo degli effetti straordinari sulla qualità dei servizi che vengono offerti, per esempio, nel settore non solo quello che viene più a mente del turismo, ma anche dei servizi culturali, ma anche dei servizi di proposta, ad esempio, di quelli che sono i prodotti tipici di un territorio che incorporano la cultura di quel territorio. Questo avrebbe anche l'altro effetto, che sarebbe una cosa ad alta intensità di lavoro umano, magari proprio tutti quei giovani ad alta scolarità e ad alta disoccupazione che oggi ingrossano le statistiche. Questo era il quale volevo fare. Avevo poi un'altra cosa da dire, ma di un minuto, che riguarda considerazioni su questa giornata, ma la dico dopo, le obiezioni. Prego, Marco. Grazie. Il discussant. Stavo pensando prima che stiamo trattando dei temi molto controversi, però in questa prima parte della prima mattinata abbiamo sempre avuto dei discussant che sono stati entusiasticamente d'accordo con il relatore principale, per cui mi sono domandato se forse non abbiamo anche sbagliato in qualche modo nelle istruzioni, nelle scelte. Forse bisogna avere delle persone che siano di un punto di vista diverso, molto diverso, abbastanza diverso. Mi è difficile però essere il primo a esercitare questa... Anche perché poi Giulio De Petra, noi lo conosciamo da tanto tempo, è un innovatore per antonomasia, per cui questi temi che sono trascurati nel nostro paese, lui li percepisce prima che diventino degli argomenti di primo livello, di primo rilievo. Quindi anche volendo fare il contropelo e le critiche mi sembra difficile. Però cerco di dire qualche cosa che non sia del tutto in linea per dire le difficoltà che trova un progetto di questo tipo. Una di queste difficoltà è la privacy, il regime della privacy che riguarda tantissimi di questi dati. Perché poi se cominciamo a parlare di dati anagrafici, ci sono dei problemi di nomi e cognomi associati a indirizzi, a numeri di telefono e altre cose. Ma se poi parliamo di dati sanitari, di dati IMSS, bisogna anche porsi dei problemi di questo tipo che vanno incorporati nell'analisi quando uno incomincia a digitalizzare. Perché ad esempio può porsi il problema di adottare delle tecnologie di digitalizzazione che consentano poi la anonimizzazione dei dati per affrontare alcuni di questi problemi. Il secondo tema sul quale qui non posso dire che mancasse nell'analisi di De Petra perché è stato toccato questo tema. La proprietà intellettuale qui è veramente nemica. È veramente nemica dell'uso virtuoso dell'accesso prima e del riuso a queste risorse così importanti. Ed è un'inimicizia gravissima. Gravissima perché in realtà, questo è l'attacco di De Petra, ma direi ancora di più, qui sono veramente delle miniere a cielo aperto di dati. Io non esiterei a fare l'ipotesi che l'innovazione che noi abbiamo concepito per ora come innovazione o creazione dell'individuo o dell'impresa intesa come unità contenuta si stia trasformando in innovazione collettiva attraverso l'intelligenza distribuita e attraverso l'intermediazione della rete che consente di raggruppare, selezionare, verificare, validare, combinare quantità enorme di dati. Per cui io mi domando se proprio l'innovazione non stia cambiando nella sua formula e nei suoi incentivi. Quindi si tratta di una miniraca delle potenzialità che poi possono essere importantissime perché pensate alla crisi dell'ambiente, come può distruggerci tra qualche decina di anni e come sia difficile pensare che con le politiche che abbiamo adesso e senza un grande sforzo di intelligenza distribuita se ne venga fuori. Quindi queste sono miniere di dati importantissime ma che sono sotto chiave per colpa, devo dire, a proprietà intellettuale. Per colpa di proprietà intellettuale perché molti di questi dati sono comunque protetti dal diritto nuovo di proprietà intellettuale che è il diritto di banche dati. Per cui le amministrazioni che le hanno dovrebbero essere titolari di un diritto di banca dati che può consentire il digniego dell'accesso. Ma a parte questo ci possono anche essere dei diritti d'autore sui metadati. Ad esempio la descrizione del catalogo di una biblioteca sembra strano ma è coerente a quello che dicevamo questa mattina e a sua volta un'opera protetta nel senso che la descrizione di quelle due righe o le 21 parole di Twitter sono già un'opera tutelabile e probabilmente le persone che lavorano per la pubblica amministrazione hanno dato un consenso a che il loro input per la pubblica amministrazione appartenga alla pubblica amministrazione ma non hanno dato un ok a un riuso di questi dati resi accessibili attraverso la rete. Quindi anche se le pubbliche amministrazioni fanno un passo indietro non è detto che lo facciano i dipendenti e i contratti non coprono questo. Quindi ci sono dei grossi problemi di proprietà intellettuale da affrontare e da risolvere. E poi il problema che anche è grossissimo da risolvere è che anche esso non è stato toccato da De Petra ma c'è una insufficienza proprio non soltanto le norme italiane il decreto legislativo del 2006 ma anche la direttiva che è del 2003 la tariffazione. Nel senso che qual è il principio che viene seguito? Quello per cui le amministrazioni mettono a disposizione al costo marginale della diffusione o della disseminazione? La direttiva non dice questo. Dice soltanto che ci devono essere delle modalità di richiesta di corrispettivi che siano trasparenti e non discriminatorie. L'Italia comunque è stata chiamata di fronte alla Corte di Giustizia perché non ha rispettato neanche questo minimo precetto. Però idealmente gli Stati Uniti perché sono il paese che ha avuto il massimo di diffusione della Public Sector Information? Perché ha rimosso questi tre problemi. Privacy non ne hanno molte di norme a tutela, meno di noi. Diritto d'autore e proprietà elettuale espressamente hanno rinunciato a qualsiasi forma proprietà elettuale sulle informazioni del settore pubblico e la tarifazione ha da circolare all'inizio degli anni 90 il principio per cui è il costo marginale di disseminazione. Certamente c'è ancora moltissimo da fare e certamente l'Italia è molto indietro e benvenga che ci siano delle amministrazioni che cominciano a porsi il problema anche quella regionale piemontese. Devo dire che proprio nei rapporti con il Centronex ho una particolare attenzione a questo tema sul quale stiamo dedicando un progetto di ricerca regionale e un network tematico europeo. Grazie. Veramente benedetto qui c'è il gioco e io sono d'accordo con le obiezioni del discarso quindi è ciclica la cosa. Professore sulla privasi la soluzione dentro la ricerca sulle tecnologie nuove gomme vanno incorporate le tecnologie che rendono possibile l'animizzazione. Questo è l'altro aspetto è c'è anche la parisi attiva cioè la possibilità per me di sapere tutto quello che mi riguarda che sta dentro questo patrimonio informativo pubblico che è un diritto che sta dentro la privata e non è solo passiva è anche sul copyright questa è la cosa più complicata però dell'esperienza che abbiamo fatto anche in collaborazione con con il lavoro sul sul singolo caso genera una competenza che poi può essere riusata in casi analoghi e in certi casi può innescare meccanismi virtuosi per cui qualcuno che vende una copia magari è disponibile a mettere i libri sul sito pubblico scaricabili stampabili la tariffazione qui ci sono proprio due punti di vista c'è chi pensa che questo è un modo per far arrivare dei soldi alle amministrazioni e c'è chi pensa che è un modo sbagliato il modo giusto è questo di rendere queste cose accessibili gratuitamente o i costi di riproduzione tendenzialmente gratuitamente che però questo è qualcosa che genera sviluppo su quel territorio e quindi comunque ripaga l'investimento benissimo c'è tempo per una o due domande a questo proposito non ho ricevuto foglietti c'è qualcuno che per caso ha delle domande della platea sì vedo che lì c'è una allora abbiamo Alessandro C del dipartimento di studi politici rivolto al dottor De Petra a proposito di documenti pubblici liberamente accessibili la cosa potrebbe valere anche per le indagini sulle attività delle organizzazioni criminali per esempio le informazioni relative ai beni confiscati che problemi potrebbe porre la cosa in termini di privacy e uno politico e uso politico della diffamazione penso per esempio alla recente polemica sul video del killer a Scampia pubblicato dalla magistratura per trovare il colpevole come caso limite io credo che anche qui sia un problema di esame caso per caso e di vedere quali sono i benefici sociali che a cui la ecco c'è un aspetto ci sono dei tentativi veramente molto embrionali in cui amministrazioni pubbliche e locali in Calabria ho visto degli esempi di questo tipo stanno facendo iniziative di chiamiamole i democracy con tutta l'ambiguità che questo tema ha sul controllo della legalità da parte di associazioni di cittadini in collaborazione con chi sta rendendo disponibili i beni confischiati quindi vuol dire c'è una possibilità di considerare questo anche un elemento attivo nel costruire un servizio pubblico di partecipazione politica posso dire una cosa fuori tema perché siccome non ho trovato nessun altro punto del convegno in cui fare questa osservazione mi prendo 30 secondi ed è per dire che io credo che questo incontro sia stata una cosa è questa mattina di straordinaria di straordinario interesse cioè io penso che Nexa sia in questo momento un luogo per i temi per la reputazione anche internazionale che ha che sia prezioso veramente per la rete e che forse vale per appena io chiedo a chi ne ha la responsabilità di immaginare anche una partecipazione una contribuzione della rete al funzionamento di Nexa però è un altro tema grazie se non ci sono altre domande Marco vuoi aggiungere qualcosa? vorrei dire che è molto americana l'idea di questo drive funding drive attraverso la rete bisogna poi vedere costi e benefici la popolarità potrebbe scendere o potrebbe aumentare non lo so e tutto comunque ti ringrazio perché il sentimento sottostante è molto elogiativo per cui mi sembra un'idea molto affettuosa ecco grazie grazie e grazie per la vostra presentazione andiamo adesso la parola all'ingegner Fulvio Ananas ti lascio il posto allora l'ingegner l'ingegner Ananas come vi dicevo direttore di un nuovo direttorato dell'autorità studi, ricerca e formazione e ci dirà in questo campo ampio di internet e società quale può essere il ruolo qual è il ruolo che l'autorità per le garanzioni e le comunicazioni sta dando forma grazie no devo spingere grazie ringrazio il centro NEX per l'invito e per come prima dicevo personalmente Juan Carlos De Martini per l'altissima qualità degli interventi che toccano ovviamente un argomento estremamente caldo estremamente di interesse al punto che anche l'autorità che essendo una istituzione abbastanza diciamo mastodontica è abbastanza attenta a non fare grandi balsi in avanti quindi è abbastanza stabile in genere come approcci è già un po' di tempo che sta un po' investendo e occupando di queste attività e questo è anche il motivo per cui vorrei vorrei dirvi faccio da qua o faccio da qua ok faccio questo quindi sostanzialmente vorrei raccontarvi sperando di stare nei tempi senza altro alcune cose che stiamo mettendo in campo in questo argomento chiedo scusa perché nel riarrangiamento di alcune slide qualcosa è andata fuori ma comunque quello che è andato fuori poi ve lo dico a voce sostanzialmente oggi vorrei parlarvi di tre cose uno di quello che stiamo facendo nella tutela del diritto d'autore c'è un'indagine conoscitiva appena da un po' partita e che si concluderà tra un mesetto circa per dare all'autorità al Consiglio dell'autorità tutti i dettagli per poter decidere come ambientarsi e come muoversi in questo specifico argomento quindi molte cose dette oggi tra l'altro sono molto contento di vedere che più o meno siamo sulle stesse palle e più o meno siamo su ragionamenti che portano a conclusioni analoghe quindi parlerò brevemente di questo un'indagine che appena partita adesso riguarda anche il diritto dell'accesso ad internet a rete mobile sapete che alcune compagnie telefoniche questo è vero un po' tutto il mondo ma chiaramente noi stiamo occupando un po' della parte italiana mettono delle limitazioni al traffico dati sul protocollo internet su rete mobile quindi sia voice over IP sia peer to peer quello di cui stiamo parlando anche lì è partita un'altra indagine e poi quello che qui non vedete partirà a breve un programma di ricerca abbastanza importante il prossimo anno su tutto servizi e contenuti per le reti di prossima generazione quindi a rete a banda ultra larga grandi fibre ottiche per capirci e quant'altro quindi parlerò di queste tre cose cominciando con la tutela del diritto d'autore come dicevo è partito da da qualche tempo un'indagine conoscitiva che tutto sommato l'autorità diciamo passo indietro spesso fa queste indagini conoscitive non perché non ci siano argomenti che in teoria già dicono tutto molto basta sentire anche quello che è stato detto oggi in questa sede il punto che ovviamente per poter deliberare quindi un atto deliberativo dell'autorità poi a carattere chiaramente obbligatorio per gli attori del settore deve essere molto ponderato e deve essere in qualche modo filtrato e pesato da studi indipendenti all'autorità questo è il motivo per cui già è qualche anno ma sono un paio d'anni che c'è molta enfasi sulla direzione studi che è quella che un po' deve coordinare questi aspetti un po' di assessment anche su argomenti un po' più o meno già un po' avanzati e creare un po' quindi un osservatorio indipendente di quello che l'autorità ritiene per poter poi passare a deliberare in tal senso quindi stiamo partendo anche dall'ultimo bullet che vedete cioè quello che la legge 249 ci affida quindi sostanzialmente noi abbiamo tre compiti importanti tutelare i consumatori nelle loro libertà fondamentali tutelare gli operatori affinché ci sia una competizione equa trasparente non discriminatoria e poi curare molto gli aspetti di innovazione tecnologica e di avanzamento del paese da un punto di vista di benessere complessivo della popolazione e da questo punto di vista quindi stiamo un po' vedendo sia attraverso la legge istitutiva sia altre leggi uscite dopo in particolare la 248 del 2000 che ci dà dei temi di vigilanza in tema di diritto d'autore ci rendiamo conto come oggi è stato detto che tanta acqua è passato sotto i ponti che ancora si parla di cose tipo copyright hanno tre secoli di vita e quant'altro e stiamo appunto vedendo un po' come il passaggio in qualche modo a internet specialmente se come grossa speranza dell'autorità ci saranno presto delle redi a bando ultralarga che a nostro avviso comunque internet e non solo accelereranno lo sviluppo del paese come comportarsi quindi come proporre al governo cosa che la legge istitutiva ci consente di fare sia non tanto sanzioni di cui non abbiamo il potere di effettuare in tal senso quanto interventi ad hoc per modificare delle regole che noi riteniamo siano abbastanza non applicabili e quindi da questo punto di vista ovviamente tutto quello che è stato detto oggi ci trova sostanzialmente d'accordo cioè dobbiamo in qualche modo fare in modo da un lato di favorire l'accesso alla rete quindi non mettere paletti non mettere cose che possano in qualche modo influire sul comportamento dei consumatori cioè di non negare che il consumatore possa accedere a tutte le a tutte le il mercato legale dei contenuti dall'altro vedere come poi affrontare il discorso della pirateria l'abbiamo messa avutamente tra virgolette perché sappiamo molto bene che c'è un dibattito in corso in cui ci sono anche delle alterne vicende sul fatto che molto spesso da studi anche indipendenti pare che addirittura un certo tipo di pirateria abbia effetti positivi sul mercato anche legale quindi cercare un po' di vedere quale potrebbe essere un approccio italiano mi è molto piaciuto l'intervento precedente di questa mattina in cui c'era la possibilità delle licenze collettive estese che è una delle possibilità che stiamo considerando nella nostra indagine quindi più o meno da osservatori indipendenti stiamo arrivando alle stesse conclusioni e quindi siamo diciamo quello che riteniamo appunto che in qualche modo non ho conclusioni particolari perché non era questo lo scopo di questa di questa indagine che deve essere conclusa verrà presentata al consiglio e poi il consiglio delibererà in tal senso però le linee guida sono quelle indicate anche da altri da altri speakers questa mattina e quindi ecco al solito cercare di contemperare l'esigenza del direttore dei diritti sui contenuti con il diritto dell'utente di fruire delle utilizzazioni che consentono della legge e quindi stiamo studiando e proponendo qualcosa che probabilmente vedrà la luce il prossimo anno su possibili attività in Italia che molto probabilmente adesso questo parlo a livello personale ci vorrebbe il disclaimer questo è quello che dico non impegna in alcun modo l'autorità ma non credo che saranno interventi di tipo quello francese che ci sembra oggettivamente molto punitivo e non molto in favore dello sviluppo della rete addirittura con effetti negativi anche dal punto di vista di chi lo ha degli effetti che si penserebbe di dover reprimere probabilmente sarà un approccio più di moral suation preventivo magari ecco curando anche delle possibili approcci tipo licenze collettive estese se ne saprà di più per quanto riguarda l'autorità quando questo studio questa indagine verrà presentata e poi probabilmente deliberata qui dall'inizio del prossimo anno l'altra cosa che volevo dire molto brevemente stessa cosa di cui parlavo prima altra cosa molto importante cioè il discorso che sul rete mobile come prima dicevo ci sono a volte dei tentativi perfettamente comprensibili dal punto di vista di diciamo business model perché ovviamente quando un operatore mobile che fa immagini li fa sul traffico voce vede da un certo punto di vista che i dati possono in qualche modo portargli via molto il traffico voce sta un po' attento dopodiché probabilmente qui c'è il pro e il contro ma in qualche modo se tu però spingi e agevoli queste cose la torta aumenta quindi si riduce perché il traffico dati tende ad esplodere allora si riduce la fetta sulla voce ma la torta è più grande quindi tutti questi discorsi che sono discorsi di mercato ovviamente che a noi interessano fino a un certo punto in quanto noi siamo un'autorità che deve capire il mercato e regolarlo ove serva quindi non abbiamo né poteri né velleità a livello di politica industriale né di ovviamente politica economica ma dobbiamo in qualche modo fare in modo di agevolare lo sviluppo del mercato cercando di stare attenti anche a che i diritti fondamentali non vengano calpestati quindi noi questa indagine conoscitiva tende un po' anche lei a approfondire quali aspetti possono essere di interesse in particolare come dico nel terzo e quarto argomento sia come tutelare del consumatore perché qualunque cosa accade il consumatore sia tutelato sia a conoscenza e quindi tutto quello che viene fatto eventuali dinieghi di poter andare su voi per darete mobili o qualunque altra cosa venga chiaramente resa nota portata a conoscenza dell'utente e quindi può decidere se eventualmente passare a un altro operatore e poi sulla concorrenza un po' il tema questo se volete il tema del net neutrale di toccato questa mattina cioè fare in modo che comunque tra gli operatori non ci siano delle particolari situazioni di discriminazione per cui magari un particolare scusate tra gli tra gli ISP diciamo tra i service provider per cui un un operatore magari può avere interesse sotto certi aspetti a dire che io per proteggere la mia rete metto un blocco o comunque faccio un traffic shaping un certo tipo di traffico e magari guarda caso lo faccio a un ISP e non lo faccio all'altro ecco queste cose sono quelle che per farvi anche capire a chi non fosse già dentro a quello che fa l'autorità a quali sono le tipo di cose a cui guarda l'autorità non per forza noi siamo una direzione studi quindi io rappresento questa direzione all'interno però di un'autorità che pur facendo studi la mia direzione che è molto simile a altri studi fatti anche in queste sedi e sento cose molto vicine a quelle che facciamo anche noi noi siamo comunque focalizzati sui possibili ritorni regolatori di quello che stiamo facendo quindi per questo motivo noi ci occupiamo all'interno di queste indagini di specifici aspetti in qualche modo collegati alla mission che ha questa autorità l'ultima cosa di cui parlo molto brevemente perché credo che il tempo sia già finito un grosso filone che stiamo quindi nonostante sia a metà delle slide le salto tutte stiamo pensando come facciamo già da due anni di lanciare per il prossimo anno un grande programma di ricerca noi in genere lanciamo un programma all'anno per l'accademia il primo è stato lanciato alla fine dell'anno scorso e sta terminando sulla infrastrutturazione a banda ultralarga quindi fibre ottiche reti e quant'altro quest'anno vorremmo lanciare una cosa che tutto sommato vede che tipo di servizi e contenuti possono andare su queste reti a banda ultralarga tutti vogliono che autostrate a banda ultralarga la fibra ottica eccetera ma domanda ma serve veramente sappiamo che la risposta è sì ma dobbiamo un po' giustificarla anche per gli stakeholders del settore e questo prende un po' lo spunto non a caso l'abbiamo messa a questo punto perché prende lo spunto da queste due indagini conoscitive una indagina conoscitiva sui contenuti di cui metteremo un libro bianco a breve l'indagina conoscitiva di cui parlavo poco fa sul diritto d'autore e questo porterà a questo programma che abbiamo preliminamente definito con un agronico screen perché più o meno ci piace più o meno risponde a servizi e contenuti di prossima generazione che sostanzialmente tocca tutti gli aspetti molti aspetti toccati anche oggi ovviamente internet qui la fa da padrona poi ci sono tutte le varie attività sul copyright quindi mi è molto piaciuto anche il copyright 1.0 2.0 che senz'altro adesso metteremo anche se inizialmente non c'era applicazioni varie e quant'altro quindi si tratterà di un programma probabilmente organizzato su alcuni work package specifici in cui verranno trattati vari argomenti dello stesso tipo in cui vedete per esempio il 3 future internet e quindi regolazione della proprietà intellettuale tocca esattamente gli argomenti di cui stiamo parlando vi salto le varie animazioni ecco e questa direi che è l'ultima perché poi salto anche le altre grosso modo quello che abbiamo intenzione di mettere dentro è un programma che deve essere ancora approvato dal consiglio quindi non è detto che esca in questo modo qua però ci siamo ci siamo orientati verso toccare ripeto partendo da un punto di vista di quello che un domani potrà convenire all'autorità di conoscere per poter deliberare eventuali regolazioni a riguardo e sulla base delle indagini che abbiamo fatti quali possono essere gli argomenti di studio che è interesse approfondire allora per esempio c'è tutto il discorso delle applicazioni su digitativi e culturale per esempio che molti parlano di reti non reti banda larga non banda larga poi si accorge spesso che spesso le reti esistono e poi non vengono usate quindi cosa si deve fare specialmente come policy di pubblica amministrazione applicazioni varie WP2 telemedicina teleolavoro teleolidattica ho finito no pensavo che mi stessi dando il allora prima si sta muovendo allora io siccome come diceva qualcuno dice guarda queste non sono mani ma sono tenaglie allora per evitare di finire in galera allora riesco a finire io e quindi WP3 sui servizi internet e quant'altro e poi toccare mercati e contenuti delle informazioni tu eri dito d'autore ci tenevo a dirlo unicamente per dirvi che e finisco veramente anzi passo direttamente a quella finale così ci sono già i ringraziamenti appunto perché lo sommato stiamo ci piace dire che almeno a me piace dire visto che sono il direttore di questa direzione di cui tra l'altro sono due collaboratori miei che stanno qui esperti esattamente in questo tipo di attività che mi piace rilevare che le attività che stiamo facendo e stiamo lanciando come indagini conoscitive come approfondimenti per il prossimo anno sono esattamente in linea con tutti i temi di cui stiamo parlando quindi credo di poter dire dovrebbe essere anche una soddisfazione a livello di nazione che l'autorità non è un ente che sta lì pieno di burocrati notai come molti pensano ma anche si apre verso il territorio e si spinge verso applicazioni servizi e contenuti che sono all'avanguardia nel dibattito odierno grazie ancora e scusate per il porto l'attività grazie due domande per l'ingegnere Adanasso sono la prima molto puntuale l'indagine conoscitiva Agicom si occupa anche dei soggetti fornitori di servizi internet e VoIP tramite satellite si occupa di tutto tutto quello che è mobile parte prende lo spunto chiaramente dagli operatori mobili però toccherà anche aspetti wireless in generale bene la seconda domanda invece da Filippo è sicuro che l'informazione del consumatore sulle discriminazioni di traffico sia sufficiente come essere sicuri che ci sia almeno un'offerta senza discriminazione nel caso del traffico mobile non si può essere sicuri nel senso che avrete chi ha seguito nel consiglio di oggi è il giorno 28 l'altro ieri c'è stata una deliberazione dell'autorità che crea un po' un precedente che abbiamo per la prima volta abbiamo messo un tetto sia agli sms sia al fatto che ci fosse almeno un'offerta a secondi diciamo che noi in genere sono posizioni quindi per la risposta è come essere sicuri non siamo sicuri perché i nostri poteri in base a come si vengono interpretati ci danno dei poteri altri dicono che non ce li danno questo di intervenire a tal punto in genere noi sia per la separazione della rete di tele di cui parlavo ieri funzionale sia per questi argomenti qua ci basiamo prima su una specie di moral suasion cerchiamo anche grazie a questi studi che noi facciamo di capire il framework competitivo e quindi una volta capito cercare di dire al mercato di cui non siamo nemici ma siamo facilitatori cercate di comportarvi in questo modo ove questo non accadesse possiamo fare delle operazioni tipo quelle di ieri che sono un po' sofferte o dell'altro ieri ma che alla fine impungono arriva come imperio che deve essere fatto così e basta vedremo quello che accade perché ci sono anche delle diversità di interpretazione se noi possiamo fare o no a queste cose ma adesso entriamo in un altro campo va bene grazie ancora inviterei gli speaker delle sessioni da mezz'ora di tutta la mattinata di questo pomeriggio quindi Andrea Cairola resti pure qua Andrea Cairola Antonella Pizzaleo Marco Ricolfi Marco Ciucina e Giulio De Petra a venire qui perché abbiamo un quarto d'ora venti minuti quasi per una fase di discussione quindi per porre ulteriori domande e per discutere con voi prego Marco Andrea Giulio Antonella ci sono i posti in piedi però no sono io in piedi scherzavo no no ma dicevo ma io il campanello in mano no no ma io lo faccio invece no faccio il moderato vuoi la campana? sì grazie allora Marco c'è una domanda in realtà per te che la gente è stata se vuoi leggere un microfono e rispondere non pensa che anche nella short route ci siano in certi casi degli intermediari ad esempio google youtube nel lungo termine cosa cambia tra long route e short route con intermediari secondo lei? sì questo è un punto è un punto e penso che sia giusta l'osservazione che sia un'osservazione estremamente valida che dovrebbe essere meditata oggi non è così tanto importante il fatto che ci siano degli intermediari perché essendoci la neutralità della rete non c'è nessun intermediario che presidi e che abbia un gateway abbia una forca caudina per cui o passi di lì oppure non passi proprio questo potrebbe cambiare in futuro quindi direi che oggi il fatto che ci siano google e youtube non cambia tantissimo perché non impediscono tanti modi alternativi di accesso che sono simultaneamente presenti quando poi ci fosse un internet a due o tre velocità questo tema segnalato ci sarebbe e comunque io credo che chi l'ha fatta abbia presente un aspetto importante che non va mai dimenticato che i nostri sociologi esprimono nei termini della distinzione tra il momento rivoluzionario il momento anarchico delle rivoluzioni in cui tutto è aperto tutto è possibile e poi l'istituzionalizzazione per cui si passa ad uno stato nascendi o stato nascenti come alcuni dicono della rete in cui si disintermedia si saltano i poteri costituiti tutti fanno tutto liberamente a un secondo momento in cui invece come capita dopo le rivoluzioni si hanno le chiese i partiti o i gruppi di potere che riprendono il controllo d'altro canto anche Metternich l'aveva detto cioè che quelle rivoluzioni che non è possibile impedire occorre dirigerle quindi questa domanda ci dice state cauti perché voi oggi vedete degli spazi di libertà che si sono aperti ma in un secondo momento si possono richiudere giustissimo è una raccomandazione una ricetta che seguiremo con grande attenzione grazie domande dalla platea faccio un microfono quindi non dovete neanche alzarvi prego debola dici qualcosa parliamo di continuare ma la osservazione che ha fatto adesso il professor Ricolfi è una di quelle che riecheggiano sempre nei miei pensieri quando appunto sento parlare del cosiddetto principio di disintermediazione in effetti credo che sia un po' un falso principio è giustissima l'osservazione in cui oggi non vi è più la barriera all'accesso e quindi l'intermediario come nel mercato discografico lo è stato e lo è tuttora anche se in via residuale il distributore non rappresenta più quella barriera all'accesso e quindi oggi abbiamo la moltiplicazione e la divulgazione dei contenuti e questo credo che appunto sia un grosso un grosso traguardo però allo stesso tempo io appunto mi trovo d'accordo con l'osservazione che è stata fatta da chi ha posto la domanda nel ritenere che effettivamente ci sia stato un ricambio degli intermediari quindi un passaggio dai vecchi ai nuovi ma che comunque insomma questo non sposti a lungo termine il problema più di tanto e in questo momento non ho altre cose perché mi sembra giusto e basta mi faccio io una domanda se doveste indicare le massime priorità nel senso argomenti che sono potenziali problemi pericoli opportunità relativamente a internet per i prossimi cinque anni quindi su cui concentrare l'attenzione dei policy makers che cosa indichereste che cosa è la cosa più importante la libertà di espressione sulla rete la possibilità la necessità di mantenere l'autorità della rete qual è l'altra cosa e che cosa manca nel nostro lavoro come presentato dai temi oggi sottoposti alla vostra attenzione qui ci sono dei buchi grossi sembra una cosa completa ma in realtà ci sono dei buchi terrificanti ovviamente di cui siamo consapevoli in parte e magari ce ne scappano degli altri è un po' buffo che facciate queste domande nel senso che sono due domande che io avevo fatto ai partecipanti all'internet governance forum avevo chiesto quali potevano essere le priorità per i prossimi anni e che cosa mancava dall'agenda la cosa che mi aveva sorpreso di più rispetto alle loro risposte era che le priorità andavano nel tentativo di bilanciare tutto quello che è stato detto questa mattina soprattutto la questione non è più di aggiungere cose nuove perché è come se l'agenda fosse satura e quindi non c'era più bisogno di mettere dentro nei human rights nei open standards niente c'era già tutto il problema vero che era la priorità era quella di trovare un bilanciamento fra issue che sono nettamente in contrasto fra di loro soprattutto per quanto riguarda la libertà di espressione che costa tremendamente con sicurezza con privacy e così via e quello che mancava dall'agenda invece era una riflessione sugli aspetti più economici che anche la riforma della rete avrebbe portato l'attenzione proprio al discorso dell'economia dentro al discorso del rinnovamento della rete e questo in realtà non è una cosa che ho pensato io ma è una cosa che ti dicono praticamente tutti quelli che partecipano alla riforma della rete professor Romeo due risposte lapidari e la prima domanda che tu hai posto inizialmente qual è il grosso pericolo della rete la risposta è semplice la privatizzazione in qualunque sua forma risposta a quello che invece domandava Marco Ricolti di che cosa avreste voluto discutere di più bene a mio giudizio la rete rappresenta una grande rivoluzione e una grande opportunità per uno sviluppo economico più uguale il software libero è soltanto un simbolo di questa rivoluzione quindi la volta prossima vorrei che si discostesse di più di questo senza arrivare agli estremi di un estremista come me o che vuole l'abolizione del brevetto insomma io credo che questa sia la via verso la quale bisogna necessariamente andare grazie su questo volevo fare un commento tutto copyright 2.0 è uno sviluppo del software libero perché se ci si pensa ma lo è diciamo le cose come stanno copyright 2.0 non è niente di originale è l'ESIG by default creative commons by default vuol dire invece di dover avere delle licenze che è complicato sia già la legge che dica che si applica la libertà di creative commons salvo che uno non scelga di star col vecchio ma l'ESIG quando ha proposto creative commons noi l'abbiamo avuto a Torino nel 1999 quando stava incubandolo dice ma c'è il software libero però il software riguarda un pezzettino in realtà c'è accanto al software c'è la musica c'è i testi c'è tutto il resto per cui da questo punto di vista forse il software libero non c'è perché è diventato così un archetipo così un paradigma fondante che non ha più forse neanche bisogno di essere menzionato proprio se uno vede le mie note quando parlo dei creatori non professionisti esempi software libero io però non l'ho poi detto perché è dietro a tutto ecco se vogliamo quindi questo non vuol dire che poi non dobbiamo farne oggetto di studio specifico da sottosettore però forse è molto presente anche ecco se posso risponderti così c'è anche quando non si vede ecco questo volevo dirti non voglio contraddire Elena ma credo che c'è un punto che che c'è un punto che che manca di che forme di educazione abbiamo bisogno nell'era dell'internet e dei scambi digitali e c'è due aspetti uno che credo che Nexa già sta lavorando su che la question di che educazione con l'internet con le tecnologie numeriche che si è più nell'educazione all'università e nel secondario ma c'è un altro lato che che educazione per formare le capacità di base che si sono riquestiano per essere un cittadino e un individuale creativo in questo nuovo mondo e questo è una questione per l'educazione primaria e anche fuori della scuola e non ho veduto veramente lavoro che adressa un livello globale non solo in inter quindi Filippo che sta dicendo non soltanto ovviamente Nexa è incompleta ma questo è assolutamente ovvio Nexa è un piccolo centro di ricerca quindi è ovvio che proviamo soltanto riusciamo a fare qualcosa soltanto su un piccolo sotto insieme dei temi inter in società Filippo che sta aggiungendo che anche a livello globale l'agenda dipende per l'IGF essa stessa comunque non è carente anche se è molto più completa dell'attività prego scusa Carlo volevo dire una cosa posso commentare questo io devo dire che ho fatto un balzo quando ho letto il libro di Larry Lessig l'ultimo remix perché in remix lui fa un'osservazione che io vorrei riprendere in questi termini qua la nostra cultura elementare media liceale o post media diciamo secondaria è tutta basata sui testi tutta basata sui testi testi scritti mentre l'informazione una volta era basata perché le informazioni venivano ottenute durante finita la scuola nei restanti 40-50-60 anni di vita le informazioni erano scritte quindi semplici erano gli strumenti per decodificare prendere decisioni sulla base di una cultura relativa ai testi adesso non è più così perché c'è la componente suono che tutti conosciamo perché la musica veicola messaggi ma soprattutto una civiltà iconica e questo è chiaro a noi italiani da quando Umberto Eco ha scritto Apocalittici Integrati che era 42 anni fa civiltà iconica ma non è cambiata una virgola un accidente dentro all'educazione d'altro canto se posso qui dire una cosa che è politica e me ne scuso ma la dico la ragione per la quale c'è stato questo enorme successo di Berlusconi e della politica mediatica è perché mancano degli strumenti per decodificare messaggi che siano calibrati sul contenuto iconico di questi messaggi per cui quando non si è preparati si è spiazzati e quindi penso che anche la retratezza delle nostre strutture educative abbia favorito certi processi detto questo come ho fatto un salto quando ho letto questa ultima cosa di Leiseg mi sono detto ma è una cosa della quale possiamo occuparci non ho neanche provato a proporlo a Juan Carlos perché mi avrebbe forse detto di sì mentre in questo momento non riusciamo neanche a fare quello che dovremmo fare ci sono delle cose forse più immediate questa è una riflessione di cultura alta a cui noi possiamo dare i nostri five cents ma ci aspettiamo che le persone all'interno di questa sala che si occupano dei temi più generali contribuiscano noi ce ne occuperemo esplicitamente dal punto di vista dell'educazione universitaria dopo il ciberspazio ecco io sono perfettivamente d'accordo con Filippo e vorrei allargare cioè probabilmente c'è una carenza dei partiti cioè come creare una politica di sviluppo nel momento in cui noi stiamo assistendo al passaggio da una società industriale a una società a capitalismo cognitivo dove tutti i meccanismi di accumulazione capitalista si sono modificati quindi cambia l'organizzazione del lavoro quali sono le garanzie che dobbiamo dare ai nuovi cittadini affinché non diventi una situazione di schiavitù e di precariato per tutte le nuove generazioni ecco questo non è stato affrontato né dai partiti né dai centri studi e quindi qual è la politica di sviluppo quale tipo di formazione dobbiamo dare ai giovani cioè non solo essere in grado oltre a scrivere dei testi a generare multimedia ma a generarlo in maniera collettiva a come creare dei meccanismi di accumulazione capitalista che non siano legati ai meccanismi del passato ma a meccanismi che siano multipli e condivisi ecco questo secondo me manca e non so quanto Nexa poverina possa affrontare Allora darei la possibilità in realtà a tutti i speaker seduti perché quello in piedi ha già avuto modo di contribuire a tutti i speaker seduti di fare un'ultima brevissima osservazione se ce l'hanno fatelo da Antonella prego Sì allora io volevo reagire a quello che si stava dicendo anch'io sono assolutamente d'accordo perché comunque siamo attraversati da un cambiamento culturale fortissimo che la scuola non ha intercettato sicuramente come diceva il professor Ricolfi siamo una società basata sulle immagini e non è un caso che come molti autori sostengono la politica si stia basando sempre di più su codici che sono emozionali più che razionali c'è una parte della filosofia che attribuisce questo passaggio ad una società all'avvento di una società ipertecnica e iperspecialistica e quindi all'impossibilità da parte dei cittadini di esprimere dei pareri ponderati su questioni che sono estremamente tecniche e c'è chi invece l'attribuisce più a un cambio di codice ma di fatto questo sta accadendo e non è un caso anche che la crisi dei media tradizionali sia concisa poi con la crisi delle democrazie così come le conosciamo quindi sono d'accordo che comunque occorra una riflessione più approfondita io invece vorrei brevemente anche rispondere ad una domanda che mi è stata consegnata da Filippe Gren che mi chiedeva insomma a me e ad Elena di riflettere su altri esperimenti di governance che sono multiattoriali ma asimmetrici come il processo di revisione delle licenze GPL e poi mi chiedeva anche una riflessione su quelle campagne in cui come non capisco benissimo la calligrafia ma insomma come la lotta contro la criminalità organizzata in cui la società civile non è presente ma che comunque è condotta quindi insomma una riflessione su questi due temi brevemente io credo che siamo all'inizio di una comunque un cambiamento non reversibile che è composto da spinte centrifughe centripete da sovrapposizioni da scontri molto forti per la ridistribuzione del potere sono parzialmente d'accordo con quello che diceva Deborah cioè sicuramente ci sono forme di intermediazione diverse rispetto al passato ma è altrettanto certo sarò breve altrettanto certo che comunque mai come ora abbiamo la possibilità di impattare come società civile in processi decisionali un processo sicuramente solo all'inizio io non credo che le forme di potere siano strutturalmente cambiate non ancora c'è una grande retorica sulla orizzontalità su processi verticali e processi orizzontali quello che mi avviso sta accadendo con una immagine iconica che forse rende che in questa verticalizzazione di centri di potere ognuno di questi tasselli si sta pian piano orizzontalizzando e sta creando dei link con altri tasselli che prima non c'erano e a mio avviso come diceva il professor Ricolfi prima non è reversibile questo processo per cui i rischi sono tanti ma mi sembra che ci siano anche molte possibilità insomma su cui è utile riflettere grazie grazie io volevo fare soltanto due commenti a alcuni interventi fatti in particolare quello sulla formazione al mondo digitale se posso sintetizzare quello che ha detto Filippa Gren e poi quello che ha detto la collega sulla parte economica ecco io credo che sono due aspetti fondamentali personalmente stiamo parlando a livello di diciamo di community poi chi fa cosa questo contaffino a un certo punto l'importante è però che si vengono identificati i punti importanti io nella in quello che che forse ho saltato forse ho detto in fretta l'aspetto sulla formazione o comunque come fare in modo che ormai ci sono quelli oltre i 30 anni sono quelli che hanno acquisito quelli oltre i 50 come me sono vecchi vecchi bacucchi non sanno fare nulla quelli intermedi hanno iniziato durante hanno imparato i nativi digitali già nascono queste cose qua è chiaro che c'è tra 20 anni o 30 anni probabilmente non avremo più il problema del digital device culturale perché quelli già ci nascono e sarà il contrario sarà che chi non è così è fuori adesso abbiamo un grosso problema però di questi 10-15 anni probabilmente di interregno in cui se non si passa a delle funzioni di tipo formativo educativo e quant'altro c'è il rischio di una discrasia tra un mondo che va avanti e l'altro che resta indietro noi l'abbiamo messo senz'altro in quel world package uno di cui parlavo quelli sono gli argomenti di cui ci vogliamo occupare mi piacerebbe anche vedere se c'è una sinergia che possiamo mettere in campo tra noi e voi mettendo stressando ancora il fatto che noi abbiamo un focus di ricerca molto specifico lo dico ancora una volta non siamo un centro di ricerca facciamo delle cose che in qualche modo sono collegate alla società in senso lato e a quello che l'autorità dovrà fare quindi noi intendiamo farlo ogni collaborazione è most welcome la parte economica è altrettanto fondamentale questo invece ci tengo a stressarlo forse proprio in questo ambiente io ho fatto il professore universitario come qualcuno di voi sa molti anni fa sono andato via dall'università io sono uno dei pochi professori universitari vincitore di concorso e confermato che si è dimesso sono un pazzo ma chi mi conosce sa che sono pazzo però uno dei motivi era proprio questo io sono ingegnere poi mi occupo tutte le cose di cui abbiamo parlato per me l'approccio a quanto costa è fondamentale perché se no possiamo farci tutti i discorsi che vogliamo tutto libero tutto libero poi esce fuori che però senza criminalizzare ovviamente nulla avete visto come la mia posizione personale è molto per la libertà però bisogna anche quantificare se poi la società in certi aspetti particolari se può permettere o meno o eventualmente quali azioni quello di mettere una tassa per tutti e quant'altro quindi per me addressare scusate il termine inglese mi sembra molto opportuno aspetti economici per me è fondamentale se no portiamo il rischio che stiamo senza offesa per i sociologi in mano alla parte sociologica che dice tanto bello si però diciamo questo è un affare mio io quelle cose non mi sporco invece è fondamentale perché se no il sistema non si regge grazie vorrei contribuire con un'osservazione che in qualche modo cerca forse di unire le due questioni l'educazione e lo sviluppo economico perché se lo guardiamo in un'ottica diciamo da amarti a sé in capabilities functioning capabilities le capacità i prerequisiti ormai per esistere sia come cittadino che come diciamo attore economico nella società richiedono tutta una serie di skills e di abilità che non sono solo più ovviamente scrivere e far di conto ma comprendono anche le capacità per esempio di decodificare certi messaggi di accedere ovviamente di avere un'alfabetizzazione informatica che in senso lato c'è non solo ovviamente utilizzare lo strumento ma capire cosa c'è dietro sapersi porsi criticamente e ritorno ancora una volta rispetto alla questione libertà di espressione e internet questo diritto esiste solo nel momento in cui ovviamente è conosciuto d'altra parte parlando di capitalismo della conoscenza cognitivo la libertà di espressione anche nel dopoguerra nasce non solo come i giornalisti ma nasce anche come strumento per la libera circolazione della conoscenza e c'erano anche teorie ovviamente quello che poi è successo nel concreto nei paesi in via di sviluppo che hanno acquisito tutta una serie di conoscenze scientifiche talvolta facendo anche un certo uso come pensiamo al caso del Pakistan del centro di Trieste della figura del fisico che in qualche modo ha permesso il passaggio di certe conoscenze però appunto ritornando a questo quando si pensa all'alfabetizzazione di base nelle scuole primarie e secondarie ci devono essere questi elementi c'era c'è stato già un fallimento nella scuola italiana rispetto all'educazione civica che è sempre stata considerata quella materia che alla fine non c'è mai tempo di fare forse bisognerebbe cercare nei curriculum di rinserire l'educazione civica perché i risultati forse sono visti permettetemi di dire e poi ovviamente inserire anche questi tipi di nuove educazioni indispensabili ormai per essere cittadino del mondo grazie sì volevo scusarmi la domanda quella senza nome l'ho fatta io non volevo non volevo non volevo essere anonimo dimenticato di mettere il nome ritorno a quella considerazione con un'osservazione alla fine c'è un modo naturale di organizzarsi delle cose che porta a generare dei nodi prevalenti diciamo dei super nodi succede su Incer avevo letto un libro quindi lo prendo come atto di fede il link di Barabasi che spiegava come sono cose che funzionano così le cose e quindi quello che conta è non tanto che ci siano degli intermediari ce ne saranno sempre gli intermediari però quello che conta è l'accountability degli intermediari quindi quello che è importante è conservare un ecosistema libero e quindi quello che ci vuole è internet neutrale software libero contenuti liberi ed educazione per educarci a usare questi strumenti riprendo quello che ha detto Raffaele me o prima secondo me il punto è che ci servono degli economisti che dimostrino quello che è già senso comune nella rete cioè che l'economia dei beni comuni è superiore all'economia delle privatizzazioni soprattutto in special modo sulla rete bene grazie a tutti allora inizia senza interruzione che la rete